Corri e salta dietro un pallone, finché il rete non andrà. Ma che importa se al sicuro, la sua mano di luce è come un muro. Noi terremo, vinceremo e non ci lasceremo mai. Axel è un attaccante vero, il nado di fuoco è il suo tiro. Ed il nostro obiettivo è vincere il football frontier. Ognuno ha un colpo che imparato lui ha, da una squadra che nel cuore è sempre brava. Perché devi lottare con la forza che hai, così la tua partita vedrai che vincerai. Corri e salta dietro un pallone, immagino il tuo gioco rendere potrai. Corri e salta dietro un pallone, e corrono con lui i sogni che tu hai. Corri e salta dietro un pallone, finché il rete non andrà. Finché il rete, finché il rete non andrà. Inazuma Eleven Perfetto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mark, non vedi come siamo in pochi. Non formiamo nemmeno una squadra. Anche se siamo un club di calcio, non è noioso pensare solo a giocare a pallone. Guardiamo un po' di televisione piuttosto. Ragazzi, anche voi avete voglia di giocare a calcio, vero? Sinceramente non capisco perché Mark se la prenda così a cuore. Avrà mangiato un panino andato a male. Tanto, anche se volessimo allenarci, non sappiamo nemmeno se il campo è disponibile. Ho sentito dire che il club di calcio verrà soppresso. Quindi che senso ha tutta questa fatica? Grazie a tutti. 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 Mi dispiace. Con il calcio io... ormai ho chiuso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.